Ora ci spostiamo, allora intanto vi presento uno strumento particolare usato in tutta l'Italia regionale con varie forme e dimensioni, questo è uno strumento di cui parlo è il bufumo da una frizione, di queste dimensioni che è molto più grande c'è in Molise, ma in realtà poi in Campania ci sono più piccoli da braccio, diciamo così, in Basilicata, in Calabria, in tanti posti esiste questo bufumo o tamburo. Alessandro che lo suona, stiamo 12 anni, è diplomato, non è che uno lo suona anche, non è che tutti i giorni. Visto che l'applauso di diplomato, non è che l'applauso di tutti i giorni. Dunque, ci spostiamo appunto parlando di Molise perché c'è un brano che è stato scritto da un nostro amico musicista, con il quale abbiamo scritto il disco Stella Gometa, che poi chi vuole può prendere la parte della chiesa, e Mauro Gioietti, il nostro amico musicista molisano, che ha scritto questo brano, montato queste parole, su una melodia che forse viene dal nord Europa in realtà. Però il testo è molto dentro al Molise, a quello che è questa terra, perché il testo invoca praticamente la Stella Gometa e chiede alla Stella Gometa di dare le valli verdi al pastore, di dare grande pesce al pescatore. Tutte le categorie sociali vengono invocate a questo canto affinché appunto la Stella Gometa sia di buon auspicio per l'attività dell'anno successivo. Il brano si chiama appunto Stella Gometa e è il titolo anche del brano, del disco, nel quale sono comprestuti questi brani, Stella Gometa. Grazie. 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 Grazie.